Pronta la risposta da parte della procura di Castrovillari e dei carabinieri della compagnia della città del Pollino e del nucleo forestale agli incendi che lo scorso fine settimana hanno attanegliato il territorio di Castrovillari. Mentre le operazioni di spegnimento erano ancora in corso sul crinale di Monte Sant'Angelo, le cui fiamme erano state appiccate domenica 4 agosto, subito dopo l'incendio partito il giorno precedente nei pressi della casa circondariale che aveva interessato un'ampia parte di Contrada Petrosa, il dottor Alessandro D'Alessio, procuratore capo della procura di Castrovillari, ha immediatamente avviato le indagini svolte d'intesa con i militari della compagnia e carabinieri forestali, a dimostrazione della sensibilità rivolta verso un fenomeno particolarmente sofferto in tutta la regione Calabria. A distanza di 48 ore l'intenso lavoro di accertamento dei vari punti di innesco con la conseguente acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso il riscontro e la identificazione del soggetto ritenuto gravemente indiziato di esserne l'autore. La persona ritenuta indiziata ha dapprima di fronte carabiniere poi durante l'interrogatorio svolto alla presenza del magistrato della procura riferito di essere stato responsabile delle fiamme propagate si sabato pomeriggio nei pressi della casa circondariale, nonché di ulteriori tre incendi attivati domenica pomeriggio ai piedi di Monte Sant'Angelo nei pressi di Via del Cerviero, poco distante dal Tribunale di Castrovillari e in via Cera sullo vicino con Drada Petrosa. Nonostante il procedimento sia in piena fase delle indagini preliminari, va sottolineato come celeri accertamenti svolti rappresentino l'evidente dimostrazione di come le sensazioni di spavento, agitazione e turbamento manifestate dalla popolazione castrovillarese di fronte ai centinaia di ettari bruciati di bosco e sterpaglie che solo il lavoro svolto anche nelle ore notturne dal personale preposto allo spegnimento ha impedito che si potesse creare un reale pericolo per le abitazioni, siano state non solo pienamente percepite ma anche soprattutto esteriorizzate e concretizzate dalle attività di indagine repentinamente coordinate dalla Procura ed eseguite dai militari dell'arma. La Procura della Repubblica, pienamente supportata dalla pronta azione investigativa dei carabinieri, ha posto tra i propri obiettivi anche quello particolarmente grave degli incendi boschivi. Va in tale ottica evidenziata e sottolineata la prontezza della risposta investigativa che a breve distanza dei fatti ha consentito di ricostruire un quadro di gravità indiziaria nei confronti di soggetti determinati e identificati.